Telefilm italiani, le nominations sono Big Man, Canale 5, i ragazzi della terza C, Italia 1, Rally, Rai 1 Signori, premia anche qui un grosso personaggio che è venuto da lontano, piace molto alle donne è un attore veramente molto in gamba, protagonista della famosa serie di telefilm Supercar quindi tutti certamente avrete capito che intendiamo parlare di David Hasselhoff Grazie Ciao, sono meglio ora, come sei? Grazie, grazie Grazie molto Entendo che sei un buon cantante, è vero? Sì, ho una canzone che viene a scoperta, spero che la prossima settimana in Italia Mi stavo dicendo che ho scoperto che anche un bravo cantante Tant'è vero che io avrei piacere di ospitarlo nella mia trasmissione la prossima settimana I would like to have you as my guest on my show next week, Tele Mike Thank you very much, would you like to be a guest? Grazie, I'll be there Ok, gli vuoi chiedere se costa caro? Are you expensive? I'm expensive? I don't know Non lo sa For you? Depends on how much? For the movie Ok, it's a promise then? Yes, it's a promise Allora amici ascoltatori, questa sera non lo possiamo far cantare Ma non questo giovedì, quello dopo lo faremo cantare nella mia trasmissione Tele Mike Thank you It's the title of the song you will sing Looking for freedom Looking for freedom Cercando la libertà Cercando la libertà Bene Allora signori, vediamo un po' di far leggere a questo illustre ospite la motivazione Vediamo un po' chi andrà a questo premio Speak in Italian Ma è Italia, no Volevo fare una serie de super car in Italia Ma non mi sono meso d'accordo con Ministro Ferri Con Ministro Ferri Ah, buongiorno Bene, ok Bene, ok We would like to know who is the winner Ok, will you open And the winner is? The winner is? Big Man Big Man Canal 5 Canal 5, Big Man Li tiene premio, but Spencer Todd Spencer E la signori Con inizia la serie Dei presi massimi Todd Spencer Eccolo qua Non l'emito, ben tornato tra noi Congratulations He's a great athlete as you probably know I am born in Naples Nato a Napoli E quindi parla Napoletano E parla Napoletano But you speak English Allora Consegniamo il telegatto Ecco, tutti voi certamente sapete che oltre a essere un bravissimo attore Lo è diventato per caso direi È stato uno dei nostri grandi campioni di nuoto Quante Olimpiadi hai fatto? Due Olimpiadi Due Olimpiadi Due Olimpiadi E poi ho letto sul giornale che tu hai un piede enorme Che numero hai? 48 48 48 di piede Ecco ma sapete perché vi dico questo fatto? Perché leggevo sul giornale l'altro giorno A proposito di Pippo Baudo Che ha avuto un episodio con i suoi piedi Che ha un piede molto lungo Ma è solo 46 Piedino di fatta Purtroppo questa sera non potremmo fare un paragone Perché all'ultimo momento abbiamo saputo che Pippo Baudo non viene È un vero peccato Comunque pazienza Allora, Bod, credo che vorrai ringraziare il pubblico Voglio ringraziare per questo premio Che è il primo dopo 22 anni di carriera che ricevo in Italia Grazie Hai visto che applauso All'Americano He's a great man Ok Grazie veramente Buona fortuna Grazie a Baud Spencer Complimenti Complimenti Signori, ringraziamo anche David Grazie I so hope I'll see you next Thursday Ok Ricordatevi l'appuntamento con lui Avremo modo di parlare